Ciao a tutti oggi è il 13 agosto 2023 sono qui da Francesco tra la provincia di Mantova e Cremona siamo qui nel suo frutteto con agrumi resistenti al freddo adesso Francesco mi illustra un po' tutto il lavoro che ha fatto in questi anni questi sono agrumi piantati da qualche anno questo è un oiusu è un incrocio tra un'icianentis per un mandarino antico cinese è una pianta molto antica che avrà 2000 anni e resiste molto bene al freddo anche oltre i meno 10 fa un frutto ma pezzi di mandarino non molto grosso molto pieno di semi molto acido all'interno con un sapore tra il pompelmo il limone e leggermente il mandarino la buccia è edibile molto profumata si può usare in cucina con dei preparati col pesce con con dei preparati delle salse e la pianta è molto vigorosa rustica e non presenta particolari problemi questo è una specie di pompelmo incrociato probabilmente con un'icianentis molto rustico precoce matura a ottobre o fino a ottobre e praticamente questo ha un sapore tipo il pompelmo non molto produttivo tiene molto bene il freddo come vedete la pianta è giù da anni e per tutte queste piante sono praticamente quasi tutte spinose hanno grosse spine poi andando avanti questo è un washington navel su cito svelo perché sono tutti portinnesti resistenti al freddo che resistono oltre i meno 15 meno 20 questo clone di washington navel resiste notevolmente al freddo un arancio puro e resiste anche a meno 8 meno 9 tranquillamente matura un po tardivamente primi di dicembre poi abbiamo altre piante abbiamo un icianentis per sidensis è un arancio per sidensis per i cianentis cioè e resiste abbastanza bene al freddo fa un tipo di arancio dolce poi abbiamo un mandarino un clementino non si sa bene che cos'è e il sapore è piuttosto dolce resiste molto bene al freddo è senza spine e adesso il frutto matura abbastanza precocemente di ottobre fino ottobre già pronto poi altre cose abbiamo adesso andiamo un po avanti abbiamo il violette che è una specie di limone incrociato con i cianentis è molto bella la pianta e fa dei frutti tipo i limoni molto asperi poco succosi andiamo avanti abbiamo il thomasville thomasville ha un incrocio cunquat per arancio per ponchirus fa parecchi frutti non molto grandi più grossi del cunquat dal sapore e tra l'arancio e il limone quando è bel maturo e continua a fiorire a volte e fa matura da novembre a ottobre anno a dicembre poi qui vedete tutte le piante abbiamo abbiamo un cunquat resistente al freddo dolce che non ha acidità che adesso è ancora in fioritura poi qui vediamo delle altre piante questo è un cabosu è un agrume giapponese che fa dei frutti tipo il pompelmo e il limone molto resistente al freddo un ichange lemon un ichange lemon che è un tipo limone molto resistente al freddo e poi vediamo l'us 119 che qua però non ha sui frutti che è un tipo arancio trifogliato dal sapore dolce e poi vediamo un po di piante giovani ci sono anche dei limoni da provare dei satsuma adesso andiamo a vedere un torniamo indietro che andiamo a vedere un satsuma che è resistente al freddo e adesso torniamo indietro e questi sono sempre i usu questi qua senti senti che profumo c'è un profumo no il fiore fiore anche ecco questo è un satsuma una uscima molto resistente al freddo questo non ha problemi anche a meno 10 maturano sempre a novembre niente dopo qui ci sono altre piante di uso abbiamo noi uso incrociato questo aspetta che non lo trovo dunque un attimo dunque questo questo eccolo qua questo noi uso 30 che noi uso un po più dolce è incrociata questa forma particolare poi vediamo qua delle piante però sono più giovani dei satsuma tipo l'ovari il mico l'ovari ecco qua molto resistente al freddo adesso non ancora prodotto molto poco però e poi qui abbiamo degli aranci più piccoli qui abbiamo altre cose e bisogna provarle per vedere come reagiscono come sul clima ecco l'impianto è questo è un impianto che ha dai 5 o 6 anni dai 3 anni e 5 o 6 anni le piante alcune sono già molto sviluppate comunque e poi direi basta nient'altro niente vuoi che faccia vedere anche le fragole no facciamo un video sulle fragole dai che è il mio mestiere vi saluto con Francesco e io Francesco vi salutiamo vi abbiamo fatto vedere il suo frutteto di agrumi resistenti al freddo e adesso vi facciamo magari un video sulle fragole antiche che è nata tantissime ciao a tutti ciao 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 ciao